Buongiorno a tutti sono Laura Antichi, l'obiettivo di questo tutorial è di creare un avatar in Mozilla Hubs che sia più umano di quello dei robottini che vengono proposti quindi dopo andremo noi nei tre puntini una volta aperta l'interfaccia di Mozilla Hubs change name and avatar ok questo è già il mio avatar che ho umanizzato ora andiamo a vedere come crearne uno utilizzeremo innanzitutto l'applicazione Ready Player Me voi entrerete nell'applicazione e via loggerete facendo Login vi chiederà la mail e voi metterete la vostra mail e vi verrà inviato un codice per collegarvi Io sono loggata ho qui a disposizione nella interfaccia tutti gli avatar che ho creato come potete vedere ecco e vado in create comunque new avatar create a new avatar mi chiede il tipo fisico femminile mi dice di scegliere un file oppure scatta una foto utilizzando la telecamera scatta una foto utilizzo e scatto la foto se non siete soddisfatti fate riprova ancora prova ancora finché non siete soddisfatti della foto che vi fa accetto ecco adesso ci mette un attimo per caricare l'avatar ok questo è il mio avatar posso andare a modificare sia la pelle la skin lascio questa che mi sembra adatta il colore degli occhi che sono di default come vedete marron posso andare a scegliere secondo il colore che desidero poi potete modificare il vestiario tra quelli proposti ok prendiamone uno ad esempio prendo questo uno di quelli proposti potete andare a cambiare la pettinatura se non siete soddisfatti di quella che lui ha di default implementato dalla vostra foto come vi dicevo gli occhi le sopracciglia potete modificare le sopracciglia modifichiamo va bene quella potete mettere usare gli occhiali quindi se vi piace il trucco potete modificare leggermente il trucco vabbè ho messo la bocca rossa avete altre opzioni ad esempio questa va bene che dà un po' più di luce scegliete quello che vi piace potete mettere come vedete una maschera e anche un cappello o un casco come vi pare ok io sono soddisfatta di questa mia scelta vado in entra nel lab e lui mi dice che sta preparando l'avatar l'avatar è pronto si sono soddisfatta lo troverò nei miei avatars posso condividerlo comunque ho customized customized look cioè rifare il look posso condividerlo vado in my avatar ok e trovo vedete tra gli avatar che ho creato l'ultimo che ho creato posso andarlo a editare questo posso poi download avatar.glb l'estensione che richiede mozilla.lbs potrei anche copiare l'indirizzo del glb e posso condividere vado in download avatar.glb ok e lo vado a salvare sul mio computer metterò un nome che me lo identifichi ad esempio l'acchi e l'acchi e lo salvo ora ritorno in mozilla apps ok vado in change avatar preferisco farvi vedere comunque dove si va quindi in more voi andrete in change name and avatar ok clicco su change avatar create avatar non funziona molto anche se l'abbiamo a disposizione da redeplayermi l'avatar gbl indirizzo quindi vado invece a creare un avatar e do un nome al mio avatar metto l'acchi vado in custom glp e vado a scegliermi il file glb il file glb prodotto con 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 player in me apri e adesso me l'ha caricato quindi questo è il mio nuovo avatar vado a salvare l'avatar trovo il mio nuovo avatar trovo il mio nuovo avatar come potete vedere avrei potuto anche cambiare il vestito in maniera diversa va bene lo stesso ci proverete voi a fare le vostre prove e quindi clicco sull'avatar ok e vedete che mi compare nella casella del change avatar accept e ho accettato il nuovo avatar andiamo ora a visualizzare il risultato cliccando su place camera vedete comparire l'avatar che ho appena implementato soltanto che compare da retro dovrò a questo punto ruotare la telecamera cliccando con il tasto sinistro del mouse sulla telecamera facendola ruotare ruotando anche la visuale sempre con il sinistro del mouse fino ad ottenere la visualizzazione dell'avatar ok giuro un altro po' comunque lo giurate in maniera opportuna quanto desiderate e poi cliccate sulla macchina fotografica e vi fate il selfie ok questo selfie compare qui come vedete come immagine e lo potete anche ritrovare nella chat cliccando vedete il puntino arancione della chat che mi indica che l'immagine è comparsa nella chat ed è questa come potete vedere quindi abbiamo ottenuto come risultato come risultato quindi vedete vedete vedete